Musica Benvenuti alla resegna stampa di oggi venerdì 31 marzo benvenuti a tutti cari telespettatori sul canale 17 del digitale terrestre cominciamo dal santo del giorno poi vediamo le previsioni del tempo e i giornali il santo di oggi è Sanguido di Pompose, il sole sorto alle 6.50, tramonterà al 19.34 minuti oggi avremo secondo il bollettino della protezione civile delle Marche cielo sereno poco nuvoloso con temperature in lieve aumento nei valori minimi i venti sono a regime di brezza e brezza tesa lungo la costa nelle ore centrali della giornata domani primo aprile cielo inizialmente poco nuvoloso con aumento però della nuvolosità medio alta dal pomeriggio in particolare nelle zone dell'entroterra i venti sono di brezza tesa da sud nelle zone interne sud orientali lungo la costa con vento moderato nelle ore centrali della giornata le temperature sono in lieve diminuzione cambia un po' il tempo domenica 2 aprile con un cielo che sarà inizialmente parzialmente nuvoloso con addensamenti sempre nell'entroterra nelle zone della montagna e avremo anche rovescio temporale domenica sparsi nelle zone interne nelle ore centrali della giornata le temperature non avranno variazione di rilievo i venti da sud nelle zone interne sud orientali ancora lungo la costa e sarà vento moderato avremo ancora deboli precipitazioni sempre sulla montagna meridionale della regione nella giornata di lunedì dopo la quale invece tornerà di nuovo il bel tempo la brutta notizia questa mattina cari telespettatori è che quel ragazzino di 16 anni che si è scontrato mentre faceva il motocross in provincia di Fermo questo ragazzino di 16 anni del pesarese purtroppo non ce l'ha fatta è morto e di questo parlano i giornali questa mattina allora Andrea 16 anni non ce l'ha fatta questo è il titolo sul resto del Carlino l'edizione di Pesaro la famiglia ha donato gli organi morto il centauro di macerata feltria non si era più ripreso dalla caduta nel cross a centro pagina invece la fotografia è per il saccheggio i ladri scatenati nella notte nella notte sono stati in qualche modo i sistemi d'allarme non hanno retto ingente il bottino a torraccia e fossombrone via con borse e moto ecco la foto con quello che è successo appunto in queste ultime ore ma insomma per quanto riguarda saccheggi tentativi di furto furti messi a segno insomma è una giaculatoria tutti i giorni è la stessa storia poi il dolore delle madri Mario non ha ucciso non è così stiamo parlando del delitto di Ismaele il processo per il delitto di Ismaele e sotto invece da Fano pestaggio nella notte nella strada sangue ovunque a Fano un evento misterioso sul quale stanno indagando i carabinieri di Fano sono state trovate delle tracce di sangue a terra non si capisce bene a che cosa di chi siano però probabilmente c'è stato questo pestaggio c'è stata questa litigata nella notte sulla quale adesso bisognerà capire è nella pagina 9 che però questa mattina non vi facciamo vedere perché abbiamo avuto un problema nello scaricamento delle pagine interne del resto del Carlino allora scazzottata tra bande invece dopo la coltellata sempre il campus di Pesero agitato ieri mattina la provincia assicura che le telecamere saranno accese entro il mese di aprile questa è la prima pagina del resto del Carlino andiamo su quelle interne alcune siamo riusciti erano disponibili altre invece no allora costretti a vivere per mesi senza luce né gas un inferno la testimonianza shock di una residente ci hanno fatto entrare in una casa abusivamente poco prima di Natale racconta questa famiglia e ci hanno costretti a vivere per mesi senza energia elettrica e senza gas è una storia incredibile quella che ci ha raccontato Lucia una cinquantenne fanese incappata in quello che ogni giorno che passa si rivela sempre di più essere un grosso pasticcio e questa casa è a bell'occhi questo è il caso delle abitazioni appunto rent to buy e quindi queste palazzine di via 27esima strada ok e qui c'è tutto il racconto che potrete leggere sul giornale di stamattina il resto del Carlino andiamo sulle altre pagine a questo punto passiamo direttamente al Corriere Adriatico eccolo qua il Corriere Adriatico di oggi sempre l'edizione di Pesaro il campus scolastico sorvegliato speciale il questore di Pesaro annuncia maggiori controlli entro aprile le telecamere in funzione poi invece sul processo il processo per l'uccisione di Ismaele Lulli 17enne di Sant'Angelo in invado ecco qua la fotografia l'avvocato chiede per Igli 21 anni la rabbia di mamma Deborah udienza a fiume in assise per il delitto del 17enne il processo alle belve di Sant'Angelo in vado questa è la prima pagina del Corriere Adriatico quella di Fano nuovo campus e ci sono degli imprenditori che sono interessati sono interessati in qualche modo a realizzare un campus nella zona dell'ex zuccherificio sempre se riesco a farvi vedere il quotidiano questa mattina allora ci vuole tanta pazienza e anche quando si fa la rassegna stampa nuovo campus diceva lo zuccherificio ma il Comune fa scena muta pool di imprenditori interessati alla proposta chi ridisegna in qualche modo un'area dedicata alle superiori c'è questo progetto che rivela un'indubbia utilità sociale e c'è anche un nuovo pool di imprenditori disposto ad investire dei soldi non si capisce quindi il silenzio con il quale il Comune l'amministrazione comunale ha risposto alla proposta dei progettisti l'ingegner Franco Frezzini e Adriano Olivieri dello studio di disegno SS che potrebbe risolvere una volta per tutte il problema dell'area dell'ex-succherificio ora bisognerà capire c'è questo progetto lo vedete in questa fotografia pubblicata sul giornale di questa mattina un progetto per questo ex-succherificio che è lì fermo morto con questi scheletri brutti degradati però adesso qualcuno dovrà spiegare perché evidentemente non piace il Comune sta tergiversando così tanto l'edilizia prende aria più stand a settembre cioè aria è quell'evento che mette in evidenza la casa è una kermessa dell'abitare che apre le iscrizioni lunedì 5.000 presenze nel 2016 quindi insomma una bella una bella una bella iniziativa un anziano truffato al giorno sono tanti gli anziani che vengono truffati ogni giorno ecco come evitare i raggiri la di Consum invita alla denuncia immediata e mette in guardia sulle nuove frodi questo è a pagina è a pagina 17 del Corriere Adriatico di questa di questa mattina e sempre se questo benedetto test screen mi viene dietro siamo sulla pagina di Vale del Cesano taglio le tasse e ho più risorse da destinare ai servizi sociali approvato a Pergola il bilancio di previsione Baldelli spiega risanamento opere e strategie poi sotto invece Terre Roveresche Sebastianelli primo candidato l'ex sindaco di San Giorgio in Lizza si vota l'11 giugno anche Colli al Metauro dunque abbiamo finalmente la data l'11 giugno si voterà sia per eleggere il sindaco di Terre Roveresche così come si voterà anche per eleggere il sindaco di Colli al Metauro ok dove al momento l'unico candidato sindaco lo ricordiamo è Stefano Aguzzi specchietto rotto ci paghi Grestini smaschera la truffa è un la storia dello specchietto ormai è vecchia come il cucco però ancora evidentemente c'è qualcuno che ci prova e purtroppo c'è anche qualcuno che ci casca la storia dello specchietto rotto non ve la spieghiamo perché ormai è tardi però insomma se qualcuno vi ferma e vi chiede e siete in auto e vi dice guardate che mi avete rotto lo specchietto ecco alla parola specchietto sappiate che c'è la truffa dietro di sicuro c'è di sicuro fidatevi la consigliera comunale non casca però nel raggiro e costringe alla fuga questi due impostori questo è successo in via delle regioni Greta Grestini la vedete nella fotografia qua piccolina ed è lei che insomma ha mangiato come si dice la foglia e ha fatto scappare i due impostori che ci avevano provato solitamente vi gettano contro la macchina qualcosa una scarpa una pallina da tennis per procurare il rumore il botto e poi arrivano lì con lo specchietto rotto chiaramente insomma si sa è una truffa e quindi non ci cascate 16 anni in fuga invece dalla comunità faceva la baby squillo sul camper siamo sulla cronaca di Senigallia è stata arrestata la proprietaria del mezzo la ragazzina spendeva il denaro in ristoranti e discoteche questo è successo a Senigallia ed è sulla cronaca di questa mattina sorpresa alle spalle invece mi hanno strappato la borsa il racconto di un'anziana che è stata vittima di un borseggio nel quartiere Vivere Verde poi sempre sempre dal quotidiano Corriere Adriatico sempre da Senigallia va autorizzata la raccolta della legna sul lungomare la proposta dei grillini rinviata in commissione per approfondire la pratica l'ultima pagina da Ancona la vediamo litiga con la badante tenta il suicidio mi hanno rubato mi ha rubato i soldi dice un'ottantenne sul balcone minacciava di gettarsi dal terzo piano shock in via Gorizia i volontari della croce gialla sono riusciti a farla desistere in extremis l'allarme è scattato poco prima delle sette poi l'anziana è stata portata alla torrette di Ancona bene ci fermiamo qui per la rassegna stampa di oggi non c'è altro ci vediamo stasera alle 20.30 con il Tg Occhio e la Notizia buona giornata a tutti Grazie a tutti